Un comportamento irragionevole, il libro che vi presento questa sera, Don McCullin, edizione Contrasto 2010, 383 pagine, 95 foto in bianco e nero. È una straordinaria biografia di questo grandissimo maestro della fotografia di guerra dei nostri tempi. Dall'infanzia, ci racconta appunto dall'infanzia nei quartieri malfamati di Londra, dove era nato, fino ai lunghi anni in cui ha documentato i disastri e le guerre in tutto il mondo, dall'Afghanistan al Vietnam, Cipro, all'Illanda del Nord, solo per citarne alcuni. Nel 77 e nel 64 aveva vinto due WordPress Photo, oltre a tantissimi alti premi, uno con la crisi a Cipro e l'altro con la guerra a Beirut. Buona lettura a tutti, grazie.